Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Si fa riferimento nel documento stilato ieri. Non lo era con il Presidente Conte, con le precedenti legislature? No, assolutamente no. In realtà noi siamo sempre stati, sino a questo momento, rappresentati in Europa con una voce sul tema dell'immigrazione molto flebile. Ora il Presidente Meloni riporta continuamente l'argomento su questo tema che è fondamentale. Ieri, proprio nel corso dei vari incontri, in ogni momento possibile ha rimesso sul tavolo il dibattito per esempio sulla Tunisia, che come dicevamo diventerà fondamentale soprattutto adesso che ci avviamo verso la primavera estate. Quindi sappiamo che quando le temperature e il mare migliorano gli sbarchi aumentano notevolmente. E questo voler riportare continuamente l'oggetto del dibattito sull'immigrazione è sicuramente una novità. Dopotutto quando si parla delle conclusioni che sono state stilate ieri e il rimando a giugno, in realtà si parla di un assetto e un quadro che è stato già sostanzialmente fotografato allo scorso Consiglio e quindi le attività che devono essere inserite nella politica europea e quello di giugno è una verifica su quello che nel frattempo viene fatto. Ed è inevitabile che per fare delle verifiche rispetto a una programmazione fatta qualche mese fa devono passare dei mesi, altrimenti non si potrebbe fare la verifica. Moretti?